Potete seguire su Instagram, dove c'è proprio DJ mascherato e sentite qua. Questo per quanto riguarda magari i contatti e l'opportunità di seguirti live, ma so che sei stato già ospite dei nostri studi dal punto di vista fotografico, quindi avete realizzato con Giulio Gennari un set fotografico. Sono stato già ospite qui di Style, infatti voglio ringraziare Giulio Gennari per l'invito, e abbiamo già cominciato a fare qualcosa, dove già su TikTok e su Instagram ho già pubblicato una fascia di foto, di video, che sono state piaciute con i file di video. Quindi tantissimi follower che speriamo aumentino anche dopo questa nostra breve intervista di conoscenza con il tuo personaggio e il personaggio immascherato, che è il DJ immascherato. Intanto ti ringraziamo, se magari vogliamo aggiungere qualcosa che ci siamo identificati a quel modo. Allora, che cosa vogliamo aggiungere? Possiamo aggiungere, vi do una chicca, molto probabilmente nel mese di giugno mi troverete a parte di figlio. Ebbene, questa è una bellissima notizia in esclusiva per G-Star.